Grazie a tutti. 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 stupefacente. Noi possiamo portare l'esperienza, l'esperienza che cogliamo dalle indagini, però la didattica, la formazione deve essere monopolizzata dalla scuola e la scuola si deve fare carico di questo problema che ancora una volta balza all'evidenza per il tramite dell'indagine condotta da Vincenzo Capamolla che vi dice per l'appunto da padre, immagino come me, che c'è un bisogno di avvertire il problema e di discuterne insieme per deflazionarlo. Conferme e parziali annullamenti con rinvio e in sintesi la sentenza che la Corte di Cassazione ha pronunciato sul processo Black Money frutto di un'operazione che nel 2013 colpì il clan Mancuso di Limbadi. Il troncone processuale del quale stiamo parlando è quello che si è celebrato con rito abbreviato per 10 imputati. L'unico imputato per il quale ha però retto fino alla fine il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso è Giovanni Daloi che abbiamo visto in foto in appello condannato a 8 anni, 6 mesi e 20 giorni per il quale però la pena dovrà essere rideterminata in sede di rinvio per alcuni reati in materia di armi. Sia le conferme delle condanne che gli annullamenti con rinvio riguardano invece ipotesi di reati minori. Ed emergono particolari molto interessanti dalle carte delle inchieste parallele che sull'asse Reggio Firenze hanno consentito ieri a Carabinieri e Guardia di Finanza di mettere a segno un doppio maxi blitz antimafia. Particolari che riguardano soprattutto imprenditori in odor di mafia. Consolato Minniti. Ci sono anche le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia dietro i fermi eseguiti ieri dalla DDA di Reggio Calabria in quello che è stato ribattezzato come sistema scimone. Enrico De Rosa, già agente immobiliarista in affari con la Cosca Libri, sta raccontando le sue verità ai magistrati e sono parole che pesano come pietre. Quanto all'imprenditore Antonino Mordà attivo nel settore dell'elettronica, De Rosa spiega che lui ed altri componenti delle Cosche Regine si recavano nei suoi negozi ed entravano come se fossero loro. Nino Mordà, riferisce il pentito, era una persona vicina alla Cosca De Stefano, un amico nostro. Ma De Rosa parla anche di un altro grosso imprenditore regino, ossia l'amministratore della Canale SRL, azienda che ha eseguito i lavori di metanizzazione a Reggio Calabria. Una società che, stando alle emergenze di indagine, ha avuto cointeressenze con un'azienda contigua a Cosa Nostra, rimandando a quegli accordi fra Reggio e Palermo di cui tanto si parla negli ultimi tempi. E per De Rosa l'impresa Canale è stata favorita dalla vicinanza con Dimitri De Stefano in una relazione andata oltre la semplice amicizia. Elementi che portano i pubblici ministeri a fare un'affermazione forte. Ormai da tempo, nella società regina, ogni sana, radicale scissione fra classe dirigente e indrangheta ha lasciato il posto ad una vischiosa ed avvolta inestricabile melassa relazionale in cui si fatica a distinguere il grano dall'oio. Consolato Minniti per la CNews24. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Corigliano Calabro ha scoperto l'ennesima maxitruffa all'Inps che sarebbe commessa in questo caso da un'impresa individuale e da una cooperativa attraverso ben 210 false assunzioni con un danno alle casse dello Stato pari a 350 mila euro. Le imprese presentavano all'Inps falsi contratti di affitto di terreni riconducibili a persone ignare ed estranea alla truffa, nonché fasulle denunce aziendali trimestrali attestanti l'impiego mai avvenuto di operai al fine di consentire la percezione indebita di indennità, di disoccupazione, malattia, assegno nucleo familiare e maternità. Oltre 18 mila le giornate lavorative comunicate ma mai effettivamente svolte avrebbero fruttato falsi costi di personale per circa un milione di euro e nessun ricavo. Tutti i falsi braccianti e i registi della truffa sono stati segnalati alla procura di Castrovillari. Ed ora voltiamo pagina, spostiamoci a Locri dove a causa di ripetuti episodi di vandalismo vengono addirittura sospese le lezioni. Ilario Balì. Niente lezioni fino a domani. Dopo i ripetuti atti vandalici subiti settimanalmente da ottobre, il dirigente scolastico del liceo classico di Locri ha deciso di sospendere l'attività didattica per tre giorni. Una decisione sofferta ma necessaria per tutelare gli studenti di una delle più prestigiose scuole della fascia ionica. Per ben cinque volte da ottobre infatti la scuola è stata allagata e imbrattata da uova, con i teppisti che hanno addirittura annunciato il loro ritorno con scritte offensive. Abbiamo avuto atti vandalici molto gravi che hanno allagato la scuola, hanno imbrattato la scuola, per cui per noi è incomprensibile perché nessun problema con gli alunni. Fino ad ora abbiamo avuto né io né i docenti e né fra di loro. Quindi sospettiamo che siano bande non appartenenti al liceo classico e all'istituto in generale. Questa è una cosa che ci fa molto pensare e riflettere e anche che ci spaventa un po'. Il susseguirsi di atti di teppismo non fa dormire suoni tranquilli al preside della scuola. In settimana avremo la videosorveglianza e speriamo che finisca perché è veramente una cosa grave che ci prova un pochino tutti. Ilario Bali per la CNews 24. E ricorderete il caso della donna di Crotone affetta da una rara patologia che vi abbiamo raccontato nelle scorse edizioni. Dopo gli appelli lanciati attraverso la nostra emittente anche l'azienda sanitaria pitagorica si muove. Giuseppe Laratta. L'ASP di Crotone rilascerà i farmaci necessari a lenire i dolori di Maria Itria, cittadina crotonese affetta da sindrome di Tarlov. Si tratta di una malattia rara che provoca dolori costanti. Maria fino a qualche tempo fa riusciva a curarsi a Pisa e proprio da lì arrivava il documento che certificava la necessità di assunzione di determinati farmaci, tra cui la cannabis terapeutica. Dopo il polverone alzato in questi ultimi giorni l'ASP ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda. Alla signora abbiamo fornito quello che c'era stato richiesto dal suo medico sul piano terapeutico dell'Università di Pisa in maniera puntuale per diversi mesi. Adesso noi la signora io non l'ho più vista, io ho ricevuto sulle mie scrivanie da mano di altri una sua richiesta di prescrizione di questo farmaco di cui lei ha bisogno. Non credo che ci siano motivi per i quali dovremmo fare un cambio di marcia se prima lo avevamo fatto. Allora la signora Itria ha ritirato l'ultima fornitura il 29 novembre 2017. Fornitura che doveva coprire circa 45 giorni di terapia a fronte di una richiesta che invece doveva coprire 90 giorni. Questa fornitura parziale determinata dalla irreperibilità sul territorio nazionale del Bedrocan. Appena saranno disponibili provvederemo a fare avere alla signora la quota diciamo rimanente della vecchia prescrizione che ci ha fatto. Giuseppe Laratta per la Cineus 24. Correva l'anno 1975. Alla mezzia terme veniva ucciso il giudice Ferlaino. Alla sua figura è stato dedicato il secondo appuntamento di storie di Indrangheta, la rassegna organizzata dalla fondazione Trame. Era un grande lavoratore, si alzava alle 4 del mattino per studiare e redigere sentenze. Conosceva alla perfezione i classici ed era capace di tradurre un brano dal latino al greco e viceversa. Una pioggia di fuoco alle spalle mentre rientrava dal lavoro in pieno giorno sul corso di la mezzia terme. Morì così il 3 luglio del 1975 il giudice Francesco Ferlaino, magistrato di trincea impegnato senza remore in un contesto difficile, avvelenato dall'anonima sequestri e dalla guerra degli appalti. A tracciorne un ricordo la figlia Rosetta durante il secondo appuntamento di storie di Indrangheta, carrelata di approfondimenti sui temi caldi della Calabria e in particolare della città della Piana, organizzata dalla fondazione e trame e affidata alla narrazione precisa e affabulatrice del giovane storico Fabio Truzzolillo. Stiamo ricostruendo quello che è avvenuto nella nostra città dagli anni 60 in poi. Una vicenda difficile da catturare a pieno quella del magistrato Ferlaino, tante le piste, nemmeno una la certezza, un muro contro muro di tesi finite con l'ennesimo delitto irrisolto, da cui lo sfogo del genero della vittima, il magistrato Gregorio Greco. Non si scopre mai la verità sul mio socio, perché l'indante non lo fate male, male, sia della prologia sia del carabinale. Tiziano Abbagnato per la Cignus 24 Le immagini che ora vi mostriamo documentano la caduta di un albero d'alto fusto in piazza Garibaldi a San Biase. L'albero si è poggiato sulla facciata laterale di un palazzo. La caduta che ha tranciato i cavi della pubblica illuminazione ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno così scongiurato rischi per gli abitanti. Fortunatamente nessuna vettura o persona si trovava in transito al momento della caduta. Sul posto la polizia locale e personale tecnico del comune. La zona è stata per diverse ore interdetta al traffico. Ed ora ci spostiamo a Vibo Valencia, dove oggi la cittadinanza fa i conti con l'attivazione dei parchimetri. Primo giorno di strisce blu, ma è già caos. Agostino Pantano È facile. Dove? Eh no, non lo vedo tanto facile, non vedo l'apertura. Sarà perché è martedì e gli scaramantici considerano in fausta giornate come queste, ma è certo che il primo giorno di parcheggio a pagamento a Vibo Valencia è stato all'insegna dello psicodramma collettivo. Io ci provo, ma non entro in soldi, non so, altre aperture non ne vedo. Parchimetri che non funzionano, automobilisti che le soste brevi davanti ai negozi le fanno e basta. C'è chi parcheggia come sempre ovunque e c'è chi, per non perdere i clienti, si definisce parcheggiatore a gratis. Vicino all'ospedale le strisce blu sono vuote e al comando vigili confermono un po' di disorganizzazione sulla responsabilità degli apparecchi infernali che servono alla ditta che gestisce il servizio. Non lo gestiamo noi, ma non lo gestiamo noi. È la ditta parcheggiatore che gestisce il parcheggio. Il consorzio ha gestito tutto a due, che non sono andato partito, al consorzio. Quindi funzionano oggi? Funzionano adesso. Ai commercianti che si lamentano per la sproporzione tra parcheggio a pagamento e liberi, gli operatori spiegano che non hanno ancora il bollettario per fare le multe. Ci si arrangia a voce aspettando tempi migliori. Oggi sono partiti, perché poi c'è la tollerabilità, o meno. Oggi dal gente deve sapere che non si va a prendere l'abitudine. Agostino Pantano per la CNews24. E da Vipo Valencia ci spostiamo ora a Crotone, dove l'ultimo consiglio provinciale, dopo l'ultima seduta, l'Unione Sindacale di Base ha convocato la stampa per cercare di far luce sui bilanci approvati che non vedono nessun futuro per la gestione servizi, la società in house dell'ente, i cui lavoratori non percepiscono lo stipendio da ben 25 mesi. Giuseppe Laratta. L'Unione Sindacale di Base di Crotone ha indetto una conferenza stampa sulla condizione dei dipendenti della gestione servizi, società in house della provincia, per fare un po' di luce su quanto è successo nell'ultimo consiglio provinciale che ha visto l'approvazione di due bilanci, Consuntivo 2016 e Previsionale 2017, ma che non ha visto nessuna voce riguardante la società che si occupa di viabilità, ambiente e scuola. La domanda è che tipo di bilancio è stato approvato, è un bilancio veritiero, un bilancio che, come dire, cosa prevede su gestione dei servizi. Qua non parliamo di cose astratte, parliamo di carne viva, parliamo di gente, parliamo di famiglie che da 25 mesi non percepiscono nulla, eppure sono regolarmente assunti, eppure ricevono ogni mese una busta paga. Abbiamo presentato, non uno, due esposti, due esposti, uno alla procura della Repubblica di Catanzana, dal dottor Cateri, il secondo l'abbiamo presentato pochi giorni fa alla procura della Repubblica di Crotone, confidiamo davvero nella magistratura che possa fare la propria parte. Da Crotone per la CNews 24. Con la collaborazione dei medici cardiologi dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, si è svolto all'istituto scolastico Pezzullo, nella città Abruzzi, a un'iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Negli ultimi due anni, l'associazione Cosenza a cuore ha donato agli istituti scolastici cosentini 24 defibrillatori automatici, nell'ambito di un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari, che ha fatto tappa all'istituto Pezzullo di Cosenza, dove si è proceduto anche a mostrare il corretto uso dello strumento salvavita e le manovre di rianimazione in grado di triplicare le probabilità di sopravvivenza in caso di infarto. L'abuso di alcol e fumo espone gli studenti al rischio di infarto nonostante la giovane età, per questo i medici cardiologi sono impegnati in un'opera di sensibilizzazione verso i ragazzi. Sicuramente uno dei problemi più attuali che abbiamo tra i giovani è la diffusione del fumo di sigaretta, che è uno dei principali effettori del danno cardiovascolare, che vuol dire predisporsi ad avere eventi quali l'infarto, l'ictus, la morte improvvisa. In giovane età anche il consumo di alcol va stigmatizzato perché non c'è nessuna preparazione da un punto di vista metabolico per gestire i carichi di alcol che purtroppo vediamo assumere sempre più frequentemente ai nostri giovani. L'altro grosso problema è la scorretta alimentazione e la riduzione dell'attività sportiva. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Siamo ora alla pagina degli spettacoli al teatro dell'Acquario di Cosenza, è andata in scena la nostra prima ultima cena, vediamo. Il monologo di Achille Iera, interprete di un giovane ragazzo calabrese alle prese con la quotidianità della vita e gli imbarazzi del primo amore alimenta l'interesse e la curiosità dello spettatore che assiste a questa pièce teatrale ambientata in un quartiere popolare del profondo sud. La nostra prima ultima cena, rappresentata all'Acquario di Cosenza per la regia di Gianluca Petromilo, aveva debuttato come primo studio lo scorso anno nella rassegna diretta da Armando Canzonieri al caffè Vettro di La Mezzia Terme. Oggi è inserita nel cartellone Matrioska Teatro, realizzato in collaborazione con il filo di Sofia. Il primo e l'ultimo appuntamento di quella che è una storia d'amore con tutto il disagio che hanno gli innamorati. È la storia di un uomo qualunque che soffre questo male di vivere solo perché è nato e è cresciuto in un luogo che fondamentalmente non gli appartiene. Spesso gli amori che ricordiamo di più sono quelli che ci hanno fatto soffrire un sacco e spesso ricordiamo quelli di quando eravamo 15 anni. In quest'epoca di messaggini, di Twitter, c'è ancora spazio per i sentimenti? Ma io credo che ci sia sempre spazio per i sentimenti. Salvatore Bruno per la Cineus24 E siamo allo sport, il calcio di Serie C, il derby Cosenza-Regina finisce 1-1. Il servizio è di Maria Chiara Sigillò. Finisce 1-1 il derby del Marulla tra Cosenza e Regina, partita che chiude la 26esima giornata di campionato. Alla rete dei padroni di casa messa a segno da Bruccino nel primo tempo sul calcio di rigore risponde nella ripresa Anzio Smanovic al suo primo gol tra i professionisti. Un tempo a testa, nella prima frazione di gioco è infatti il Cosenza ad impostare la partita. I padroni di casa si fanno subito avanti cercando il vantaggio. Tante idee, ma confuse. Quasi allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, però, arriva l'occasione. Pasqualoni in area di rigore commette fallo su Perez. Sul dischetto si presenta Bruccini, che trasforma così il rigore nel gol del vantaggio. Nella ripresa le due squadre continuano a suzzicarsi senza mai essere incisive. La svolta per la Regina arriva al 65esimo. Armeno la mette in mezzo per Anzio Smanovic, che con un destro da dentro l'area supera Saracco e insacca la palla dell'1-1. Dopo il pari, la Regina prova a spingere sull'acceleratore, ma è sempre il Cosenza ad avere più occasioni. All'87esimo, però, il rosso-blu rimangono in dieci per l'espulsione diretta di Pascali e dopo sei minuti di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il Cosenza, al quarto pari consecutivo, si porta a quota 36. La Regina, con 28 punti, si allontana dalla zona play-out. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. E con lo sport è tutto. Non abbiamo altri aggiornamenti. La prossima edizione è questa sera alle 20 e 30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20 e 30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.